Patrick Cutrone vestirà la maglia della squadra della sua città. L'attaccante, in arrivo dal Wolverhampton, ha raggiunto l'accordo con il Cuomo, per lui contratto fino al 2025. Difficile che il giocatore possa essere in campo già lunedì sera nella sfida dello stadio Sinigallia contro il Brescia. Visto che si tratta di un trasferimento internazionale, i tempi sono più lunghi. Nello stesso match non è invece da escludere l'esordio dello spagnolo Cesc Fabregas, che potrebbe essere a disposizione. Nato a Cuomo il 3 gennaio dell'88, Patrick Cutrone è cresciuto nella squadra del suo paese, la Parediense, per poi passare al vivaio del Milan. Con i rossoneri ha eserdito in Serie A nel 2017, con il Milan è stato fino al 2019, poi il travagliato passaggio al Wolverhampton. Un'esperienza non molto fortunata. Il club britannico non ha mai puntato su di lui e lo ha dato in prestito in questi anni a Fiorentina, Valencia e nell'ultima stagione all'Empoli. Quest'estate Patrick Cutrone è stato messo sul mercato. A lui si erano interessate varie squadre europee, ma alla fine ha deciso di sposare quella della sua città e il progetto ambizioso della dirigenza anglo-indonesiana. Cutrone ha vestito anche la maglia azzurra, ha giocato in tutte le formazioni giovanili ed è stato capitano e punto di riferimento dell'Under 21. Per lui una presenza anche nell'Italia maggiore nel 2018 contro l'Argentina. Nelle scorse settimane Cutrone ha fatto parlare di sé per la proposta di matrimonio alla finanziata Greta. Immagini di gioia dopo il periodo difficile seguito alla scomparsa del padre Pasquale nello scorso mese di gennaio a soli 58 anni. L'attaccante ha sempre avuto come maglia prediletta la numero 63 che di Pasquale Cutrone era l'anno di nascita, numero che dovrebbe portare anche in questa nuova avventura a Como. Grazie a tutti.